Una sanità sempre più disponibile ad offrire un servizio completo al cittadino non solo come cure mediche ma anche come aiuti, consigli, consulenze per potersi orientare in maniera rapida ed efficace. L'annuncio della novità era già stato dato dal presidente della regione Luca Zaia qualche settimana fa. I direttori generali delle ULS si rendano disponibili a ricevere i pazienti almeno una volta alla settimana. Una buona prassi che in Alta Padovana già esisteva perché il direttore generale dell'ULS 15 Francesco Benazzi già riceveva gli utenti sia nella sede di Cittadella che di Camposampiero ma che da questo mese viene istituzionalizzata. Da ora dunque tutti i giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18 gli uffici della direzione di Cittadella saranno a disposizione dietro appuntamento di chiunque abbia bisogno di un colloquio. In caso di impossibilità del direttore generale a disposizione del pubblico ci saranno il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il direttore ai servizi sociali. Per chi è abituato a lavorare con la gente per il proprio territorio si tratta di un'altra occasione per mettersi in ascolto e al servizio del cittadino, ha commentato Benazzi. Il contatto con il territorio significa respirare le sensazioni che hanno le persone anche nei confronti del proprio operato per rendersi conto di dove ci siano delle criticità da risolvere o dei punti di forza da implementare.